E' illegittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la testa occupazione, per essere stato in precedenza concesso un permesso per analogo motivo senza che nei sei mesi successivi il lavoratore avesse trovato un nuovo impiego. Tale rigetto non ha tenuto conto del fatto che il ricorrente ha dimostrato di disporre, grazie alla moglie convivente, di redditi sufficienti a garantire il mantenimento in Italia. Non solo, ma le gravi condizioni di salute del ricorrente avrebbero reso possibile quantomeno la concessione di un permesso di soggiorno ex articolo 36 testo unico, applicabile convenuto anche a coloro che sono già residenti in Italia, o anche di un permesso per motivi familiari ex articolo 30 testo unico, considerata la sua situazione familiare.